Ciao a tutti bagatti e papesse, io sono il bagatto e oggi vi proporrò un interattivo diverso dal solito. L'interattivo principalmente verterà su una nuova modalità, che sinceramente non ne ho idea se sia già stata collaudata oppure no da altri cartomanti. Ovvero un interattivo interattivo, quindi vi chiederete cos'è. In pratica farò un interattivo sì, se devo fare questa cosa, sì o no, eventualmente. Nella colonna di sinistra metterò due varianti, mentre a destra metterò il perché devo farla. Partiamo dalla prima, la classica lineare. Quindi perché chi ha scelto questa combinazione qui deve fare questa azione? Allora andiamo a indagare, mettiamo da parte un attimo questa, mettiamo da parte anche il perché della seconda e andiamo a prendere la prima. Abbiamo il cavaliere di spade, il matto e la raggine di denari. E qui il perché, ovvero abbiamo la torre, che è l'esperienza, il sognatore e il dieci di fuoco. E come energie abbiamo don't let your past hold you back, quindi non permettere al tuo passato di trattenerti. Questo, vi ripetisco, rappresenta il se dovete fare questa azione o meno, mentre questo è il perché. Ok, quindi se vi state chiedendo se dovete fare un'azione, qui le carte sono per la maggior parte di movimento, quindi direi se dovete decidere se buttarvi, quindi scrivere, andare a trovare una persona, sostenere un incontro, un dialogo, eccetera, qui io vi direi di farlo, di farlo. Ora, le carte sono state estratte secondo le mie energie, quindi se chi fa questa richiesta è una donna, voi siete questi. Quindi se state chiedendo devo scrivere a una persona, devo andare a trovare questa persona, eccetera, è un sì, perché voi dovete andare incontro a questa persona. Che vi sta attendendo in questo caso. Il perché. Ora, le carte hanno una diascalia che vi leggerò. L'esperienza, nonostante sia una carta estremamente brutta nel mazzo dei trochi degli angeli della Dora in Virtue, è vista molto positivamente. L'esperienza qui dice, evento importante, potente rivelazione che porta al cambiamento, è tempo di aprire le ali, quindi anche qui è un po' un tuffo nel vuoto, viene ribadito da questo matto che si trova in duplice sia da questa parte che da questa. Quindi in entrambi i casi è un salto nel vuoto, quindi non avete le basi per agire, non avete motivazioni valide che sono inconfutabili. Quindi state vagando nell'incertezza. Questo me lo dà. E sicuramente il perché, perché se non vi muovete, non so se vede, cioè questa è la carta della pesantezza, dello stress. Sicuramente lo stare fermi vi smania e con il tuo passato, non permettere al tuo passato di tenerti indietro o comunque di trattenerti potrebbe voler dire che avete già subito, in passato vi siete già buttati in un'esperienza che è stata traumatica per voi. Quindi chi ha scelto la combinazione della prima e della seconda, che erano quarzoialino e tormalina, scusate, il consiglio che vi danno è quello di agire. Quindi è un sì, il perché, perché se state fermi soffrite, perché se state fermi marcite dentro, passatemi il termine, perché se state fermi non succederà mai nulla. Non sarà quella persona, quella persona sta ferma. L'altra persona, quella situazione, visto che è generale comunque il sì e il no, sta ferma, non cambia. Quindi datevi da fare. Doppio matto, cioè veloci. Ora, mettiamo via. E prendiamo la combinazione. Prendiamo la combinazione della prima, quindi quarzoialino, con il turchese. Vabbè, le carte potevo anche lasciarle in effetti girate. Mentre qui abbiamo sei di spade, otto di spade e il giudizio. Ok. Ok. Allora, le energie generali dicono, credi nell'impossibile. Questo cosa significa? Che analogamente alla situazione di prima, d'altronde la risposta è sempre un sì, è sempre un lanciarsi. La motivazione è diversa. La motivazione è diversa. Perché dice, Le cose si stavano mettendo bene. Però Mancate un po' voi di insicurezza, nel senso che Secondo me Non avete Non avete quel qualcosa Per potermi muovere. Del tipo Sì, cavolo, vorrei contattarlo, però Se solo Postasse una foto, così io posso aggrapparmi a quella foto Ed agire. Oppure un altro esempio è Se Devo fare questa cosa, però Cavolo Quell'oggetto che mi serve per fare questa cosa Non è sceso ancora di prezzo. In questo caso La trappola Comunque la sensazione di essere in trappola Dell'otto di spade In questi consigli, il perché dovete agire Mi ripete Che appunto Dovete agire per sbloccare la situazione Perché con questo giudizio Voi Comunque avrete un giudizio positivo Cioè Scusate il gioco di parole Voi dovete comunque andare avanti Dovete svoltare Dovete E molto probabilmente Il motivo di questa scelta È anche Non dico destinato Però È una giusta soluzione Che comunque Richiederà il vostro Il vostro pensare Perché comunque Nonostante voi dobbiate Muovervi Perché qui È venuto palese Queste carte Del perché Mi dicono che Comunque sia Si sta lasciando una situazione difficile Da cui comunque siete in trappola Ma vi ripeto Le energie del momento Dicono anche che Nulla è impossibile Credi nell'impossibile Quindi perché Anche questo è un salto nel vuoto Vi ripeto Queste carte mi dicono Tuffati C'è il matto Parti Il matto è quella persona Che si mette La sacchetta sulle spalle Si prende il cagnolino E parte Col piedi di guerra Puoi partire col piedi di guerra Certo Sicuramente Con queste carte qui Quindi con Con tutte queste spade È una situazione Molto Abbastanza sofferente Ecco In ogni caso Vi consigliano Come vi ripeto Di partire Di Tuffarvi Di non aspettare Qualcosina Che vi inneschi Siete voi L'innesco Ok Mettiamo via Questa parte qui Quindi la prima Decisione Se si O no Vi ripeto Questo era Il perché Tiriamo fuori Il secondo E questo Ok Uhlala Vediamo il perché Bisogna agire Esatto Cercavo di sorprendermi Ma le carte Erano sempre quelle Ok Eh vabbè Allora Le carte Qui cosa ci dicono Se dovete fare Questa scelta Sì o no Qui Più che Fare voi La scelta Direi che Non siete Da solo O da sola Quindi Sicuramente Eh Voi Come trascinatore Del gruppo Della famiglia In questo caso Dal dieci di coppe Si direbbe più famiglia Ma È un gruppo Io qua vedo che Voi Secondo me Dovreste Attendere Quindi se la La vostra domanda È di azione Il risponso Non dice Di agire Dice più che altro Di circondarsi Di persone Quindi State chiedendo di Che cavolo ne so Di contattare una persona Poi dice di no Probabilmente dice anche Organizzato una festa Contestualizzata Con Un incontrare una persona Quindi dove ci saranno più amici E anche un aperitivo Insomma Qualcosa del genere Per quanto riguarda invece Le azioni in generale Queste Sono carte di Di fermezza Comunque di Neanche di pensarci Più di tanto Perché comunque L'imperatore Guarda addirittura I suoi bambini Quindi si concentra più Sull'aspetto Da familiare Se deve far qualcosa Aspetta Perché tanto Ha già fatto Cioè L'impero È già costruito Lui è già sul suo trono Che Che si è guadagnato O comunque Che è ereditato Ma qualcuno Prima di lui Ha fatto Che siano Membri Della famiglia O meno Quindi Qui Vedrai più come un no Anche se Vi ripeto È una situazione Di Anche se Vi ripeto Che se è una situazione Di invitare fuori qualcuno Eccetera Dice Lasciate fare gli altri Ora Può essere che in passato Con queste energie Vi fosse una situazione Dove Appunto Siete stati fermi E Avete preso Un tiro mancino Quindi avete ricevuto Una delusione Magari in passato Siete stati seduti Avete aspettato E nulla è successo In questo caso Vi dicono State fermi Perché Altrimenti La situazione Potrebbe degenerare Cioè il vostro Muovervi Appesantirebbe Tutto Quindi Il consiglio Che vi danno Queste carte È quello Di Di Fermarvi Di aspettare Di pazientare Ok Ora L'interattivo È finito Spero che vi sia piaciuto Ovviamente Stavo scherzando Perché manca ancora L'ultima variante Ora mettiamo Via questa Teniamo fuori Queste carte qua Andiamo a prendere Questa Il perché Del turchese Allora Cara variante Quarzo rosa Turchese Ancora una volta Qui Le carte Mi dicono Che È meglio Stare fermi Quindi Se Se avete posto Una domanda Dove Si necessita Di prendere Un'azione Qui Non è proprio Quel momento Non è ancora arrivato È un no Come ho già ripetuto Per la variante precedente Qui Sono più gli altri Che fanno Qui Tu hai già fatto Siete seduti O sedute Quindi Sono gli altri La vostra cerchia La vostra compagnia La vostra famiglia I familiari Che devono fare Se si tratta Di questioni amorose Quindi se Uscire con una persona Eccetera Potrebbero dire O Di attendere Che siano gli amici A proporlo Oppure Far sì Che siano gli amici A proporre Il banchetto Può stare come una cena Adesso che si può Finalmente ricenare Come un aperitivo Come un qualsiasi Atto di convivialità Accentuato Ancora di più Dalla carta della famiglia Il perché Ora Voi potreste vedere Alla base di questa indecisione Un miglioramento Quindi Vedete che le cose Si stanno muovendo Magari La pensate anche Negativamente Quindi magari dite Le cose si stanno muovendo Cavolo Perché si sta allontanando Perché sta andando peggio Perché Questa L'aver preso Questa decisione O comunque L'intenzione Di poter fare Questa decisione È dettata dal fatto Che Vi sentite in trappola Ecco Ciò che In verità Tutta la stesa Mi dice È che non devi Sentirti così Devi Far lavorare gli altri E attendere Perché Nulla È impossibile La carta Delle energie Mi dice Credi Nell'impossibile Believe In the possible Quindi Per ricapitolare Se siete Se vi state ponendo Una questione Delicata O meno Che sia Dove dovete Prendere Un'azione Dovete Imporvi Eccetera Allora forse Con l'imperatore È un'imposizione Fissa Però La vedo più Sull'ambito Delle amicizie Ecco Quindi Con persone Già conoscenti Se dovete Se avete chiesto Per un'azione Quindi Scrivere Andare A fondare Una società Eccetera Vi dicono di no Probabilmente Ne avete già una Con l'imperatore Avete già un qualcosa Una postazione fissa Un posto fisso In ogni caso Sono carte Ferme Quindi Saranno più Gli altri Ed agire Ve lo ripeto Che voi stessi O stesse Quindi Questo è tutto Finalmente Questa volta E Niente Alla prossima Alla prossima Alla prossima